Ore di ansia e apprensione per le sorti di un 82enne residente nel quartiere est di Udine le cui tracce si sono perse dal pomeriggio di mercoledì 19 giugno. L'uomo l'ultima volta era uscito dalla propria abitazione per sbrigare delle commissioni senza però far rientro. Inutili le telefonate da parte dei parenti con il cellulare muto. È stata una nipote di 57 anni a denunciare la scomparsa ai carabinieri della stazione di Udine est. È stata attivata la fase 2 del piano provinciale per le persone scomparse, causa, supporto, pericolo di vita. Al momento non ci sono novità.